Circa un milione di euro e questa la prima approssimativa stima dei danni causati dal Marrobio a Lampedusa. Numerose infatti le barche e i pescherecci colpiti dall'improvviso innalzamento del mare che a Lampedusa ha messo in ginocchio l'area portuale e non solo, nella notte tra l'11 e il 12 maggio. Sarebbero infatti una trentina le imbarcazioni danneggiate con falle nello scafo e al motore dopo il fenomeno registratosi nei giorni scorsi sulla più grande delle isole Pelagge. Per ognuna di essa si stima un danno di circa 10.000 euro. 100.000 euro invece il danno avuto per ognuno dei due pescherecci che invece sono colati a picco e mare. Danni anche ai pontili, si parla di almeno 100.000 euro. Danni ai quali si aggiunge la spesa di circa 200.000 euro di cui 150.000 per i soli lavori per rimettere tutto in sicurezza. E nel conteggio mancano ancora i danni strutturali alla viabilità. Gli interventi urgenti prevedono la riemersione dei pescherecci affondati, l'eliminazione di ogni pericolo alla navigazione e dei pontili distrutti e ogni altro intervento necessario a garantire la funzionalità e sicurezza del porto e la tutela del mare. Inoltre la Giunta Comunale ha deliberato la richiesta del risarcimento danni ai pescatori e proprietari di imbarcazione e della riparazione degli altri danni arrecati al porto e alla viabilità dall'onda di marea. Per i proprietari e per l'equipaggio dei pescherecci affondati e la Giunta altresì richiesto il ristoro del mancato guadagno per tutto il periodo necessario alla ripresa delle attività di pesca.